Buongiorno a tutti, sono le 8.30 del 12 aprile del 2019, ed è una data questa molto importante. Ovviamente è importante per me, perché è giustamente a voi, non è che... comunque. Stasera andranno in onda le mie due puntate di Comorra. Va in onda un anno di lavoro, di speranze, di attese, di sogni. Volevo ringraziare innanzitutto chi ha riposto fiducia in me. Non so se sono stato bravo, ma di sicuro l'ho ripagata con il lavoro, con la dedizione, con la fatica, con la passione totale. Poi volevo ringraziare tutte le compagne e i compagni di viaggio perché mi sono stati tutti accanto, al fianco. Non mi hanno fatto mai sentire solo. Ora il giudizio al pubblico sovrano. Io ho il ginecologo stasera, non posso vederle, fatemi sapere. Grazie a tutti.